Bella la poltrona! L'ho comprata su dalani.it. E quelle tazzine? Sempre dalani. E anche il tavolo. E non ho pagato la consegna. Ciao ragazze, avete un po' di zucchero? E lui? Te l'ha consegnato dalani? No, lui è il mio nuovo vicino. Oggi su dalani.it acquistare è ancora più facile. Ad aprile la consegna è gratuita per tutti gli ordini sopra i 70 euro. Vai ora su dalani.it e rendi la tua casa ancora più bella. Dai, prova anche tu.